Un percorso tortuoso fatto di stop ai lavori mancati collaudi e poi assenza di fondi. Il Museo del Mare di Pescara proprio non sembrava dover vedere la luce. E così anno dopo anno ha assunto sempre di più l'immagine simbolica di una chimera. Fino ad oggi che con gran soddisfazione del sindaco Mascia ha visto entrare decine e decine di visitatori in onore della sua inaugurazione. Da anni si parlava della riorganizzazione di questo museo e di una riapertura che la città aspettava. Questo museo ha avuto molte vicissitudini, vicissitudini passate. Noi siamo ripartiti quasi da zero in questi quattro anni di amministrazione. Devo rendere onore a un uomo caparbio come l'assessore Dintino che ha riannodato tutti i fili di una matassa amministrativa e anche strutturale molto complessa. Un progetto dedicato soprattutto ai più giovani, agli studenti, coloro che ancora provano il fascino e il magnetismo per la scoperta di mondi misteriosi, come quelli sommersi e che da oggi avranno a disposizione un numero davvero importante di esemplari da studiare e conoscere. Abbiamo 5.000 esemplari di conchiglie catalogate una per una, forse una delle più attrezzate d'Italia. Abbiamo la sezione tartarughe che abbiamo visto con il ciclo riproduttivo e abbiamo alcuni cetacei, alcuni cetacei perché manca ancora il capodoglio e il banenottero che siccome sono di grosse dimensioni quindi hanno bisogno di tempo per essere sezionati e trasportati. Forse un'altra cosa, più dall'occhiello, abbiamo la videoconferenza con un pescareccio al mare quindi praticamente si può assistere alla pesca indiretta con tutti i rischi negativi o positivi, comunque si assiste alla pesca indiretta sul mare.